Giuseppe Alberganti nasce il 24 luglio 1898 da una famiglia operaia e socialista. A nove anni inizia a lavorare in una fornace, poi come garzone di Fabbro e quindi alla Pirelli, simpatizzando fin da giovane con gli ideali del socialismo. Nel gennaio 1921 Alberganti aderisce al neonato Partito Comunista d'Italia e sceglie di legare il proprio destino alla lotta contro la dittatura fascista. Segretario della sezione comunista di Arona nel giugno 1923, Alberganti viene licenziato dall'impiego nelle ferrovie per il suo scarso rendimento, ma dietro alla motivazione ufficiale sta il suo contributo all'organizzazione degli scioperi. Si trasferisce a Milano e comincia a lavorare nell'organizzazione clandestina del partito. Arrestato e scarcerato per mancanza di prove, diviene membro del direttivo della Federazione Comunista di Milano. A causa della difficile situazione italiana, nel 30 espatria clandestinamente in Francia, dove cura l'organizzazione del partito e compie un viaggio in Russia, durante il quale instaura stretti rapporti con l'internazionale comunista. Per le sue posizioni eversive, nell'agosto 1940 viene arrestato dall'esercito tedesco e internato nel campo di concentramento di Vernet. L'anno seguente è consegnato alle autorità italiane, che lo condannano al confino sull'isola di Ventotene, dal quale si libera nell'agosto 1943 per riprendere l'azione nella lotta partigiana. Segretario della Federazione Comunista Clandestina di Bologna, con lo pseudonimo di Cristallo, dall'ottobre 1943 diviene responsabile del triunvirato insurrezionale, struttura militare del PCI, dell'Emilia Romagna e successivamente della Lombardia. Nell'aprile 1945 Alberganti partecipa attivamente all'organizzazione dell'insurrezione antitedesca. Dopo la liberazione è rieletto nel V Congresso membro del Comitato Centrale del PCI e diventa segretario della ricostituita Camera del Lavoro di Milano, per la componente comunista della CGL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La Camera del Lavoro di Milano è stata in Italia una delle prime a sorgere, precisamente al principio dell'ultimo decennio del secolo scorso, diventò così la fortezza naturale delle masse sfruttate, punto di riferimento di centinaia di migliaia di lavoratori delle città e della provincia. La nostra Camera del Lavoro divenne uno dei principali fattori del progresso civile del nostro Paese. Oggi la nostra Camera Confederale del Lavoro viene costituita quale organismo unitario di direzione dei sindacati professionali della provincia di Milano. Gli scopi della nostra Camera Confederale del Lavoro sono quelli di difendere gli interessi professionali, economici e morali, collettivi ed individuali, di tutti i lavoratori manuali ed intellettuali, di promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita, di assicurare un'efficace protezione dei ragazzi ed in particolare delle donne lavoratrici, portandole a posti di direzione, cancellando per sempre la pretesa inferiorità delle donne, operare per la conquista di nuovi diritti dei lavoratori e per la realizzazione delle loro legittime aspirazioni sociali, sino all'emancipazione completa del lavoro.